Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora un pomeriggio movimentato nei pressi dei giardini del Porcinaie e cresce così l'esasperazione di cittadini e commercianti. Noi abbiamo assistito a un far west in questa zona dove, è inutile dire, tanto si ripete continuamente le stesse cose. Siamo un po' esasperati da questa situazione. Una lite ben presto degenerata al punto che sarebbe spuntato anche una macete. Sono stati ancora una volta attimi di tensione e paura quelli vissuti ai giardini del Porcinaie a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Continuando così, a mio parere, si può solo peggiorare. Un diverbio nato tra un 55enne e un gruppo di ragazzi che col passare del tempo si è acceso sempre più. I giovani avrebbero scagliato un sasso contro l'uomo, ferendolo al volto. A questo punto il 55enne avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto un macete. Io ho paura veramente di stare in negozio. Il 55enne si è poi disfatto dell'arma buttandola in un cassonetto ritrovata dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Aspetterà i militari capire cosa abbia scatenato la lite. Un po' di più di presidio in questa zona ci vuole perché siamo davanti alla stazione, è un biglietto da visita per la città. Cioè qui non si può permettere a gente che si tire i sassi. L'uomo è stato portato al San Donato per curare le lievi ferite. Sarà denunciato per possesso di arma pericolosa. I due giovani sono stati accompagnati in caserma e denunciati per lesioni. È un continuo. È invivibile. Quando uno dice che è invivibile dice tutto. Questa zona attende l'avvio dei lavori del progetto di riqualificazione che il Comune ha provato nella sua fase definitiva lo scorso maggio. Oggi continua ad essere teatro di microcriminalità, spaccio e degrado. Se questa zona non è presidiata un po' più a dovere è un problema grosso per chi ci lavora, per chi ci risiede, per tutti quelli che gravitano in questa zona. È stato un anno terribile. Il 2022 per le morti sulle strade e a retine. Vediamo i dati presentati da ACI. Il numero dei morti cresce rispetto anche a prima del Covid. Questo è un dato drammatico. Un dato leggermente diverso è quello dei feriti che invece rispetto al periodo pre-pandemico sono calati. È comunque un elemento che va considerato. Cioè necessita veramente di mettere una forte attenzione. Sono state 30 le vittime della strada in provincia di Arezzo nel solo 2022, quasi il doppio rispetto all'anno precedente quando erano state 20 a fronte di un numero totale di incidenti quasi stabile. 963 nel 2022, 946 nell'anno precedente. Dati allarmanti presentati da ACI Arezzo. Questo rapporto focalizza quali sono i fattori primari. Parto principalmente dalle cause, che poi sono un po' quelle note purtroppo. Sono la velocità e sono la distrazione alla guida. In questo io ci metto il cellulare, perché ho sempre parlato della pericolosità dell'arma che rappresenta il cellulare alla guida. Ci sono poi le strade. Le strade sono confermate alla pericolosità della strada di 71, la 69 ed altre comunque nell'itinere che c'è di tutta la provincia. I veicoli principalmente sono le autovetture. Un focus importante sta sulle moto, perché anche il rapporto tra incidenti e mortalità è molto elevato. È un elemento sul quale davvero deve essere posta una grande attenzione. Tutto questo rapporto serve principalmente a sensibilizzare. Questo non è un freddo elenco di numeri. È l'ottica di dire che dobbiamo lavorare soprattutto su un punto. La gran parte di questi incidenti viene perché c'è errore umano, perché se tu non controlli bene il mezzo, ti distrai, è chiaro che l'incidente poi arriva. Fondamentale dunque la prevenzione e la sensibilizzazione. Ad Arezzo torna così il progetto Guida che ti guido. Illustra all'interno delle scuole quelle che sono le norme base di sicurezza stradale. Noi vogliamo far crescere in ognuno dei bambini e dei ragazzi e degli automobilisti di domani la sensibilità sul fatto che far comportarsi bene alla guida conviene soprattutto a noi. Torniamo a parlare adesso della scuola media di Sansepolcro Buonarroti, dove da giorni un guasto ai riscaldamenti aveva lasciato al gelo alcune classi. La scuola adesso sarà chiusa a due giorni con l'obiettivo di risolvere i disagi. La scuola media di Sansepolcro Buonarroti Pacioli chiusa fino a lunedì 4 dicembre. Il motivo è il blocco dell'impianto di riscaldamento che da giorni costringeva i ragazzi a rimanere in classe con i giubbotti. Nelle scorse ore c'è stato un incontro tra i genitori e l'amministrazione comunale e così si è deciso per la chiusura temporanea con un'ordinanza del sindaco. Sono comprese anche le classi ubicate nei moduli, ha scritto la preside alle famiglie, fatto salvo per la segreteria didattica, amministrativa e la dirigenza. È stato un tavolo di confronto, raccontano i genitori, che nonostante qualche immancabile e comprensibile discussione ha portato alle decisioni. Sono stati inoltre programmati nei prossimi giorni dei lavori urgenti. Il primo verrà effettuato immediatamente nei giorni di chiusura della scuola. Gli altri a seguire prevedono l'installazione di 10 apparecchiature monosplit con linee indipendenti esterne. Entro il primo dicembre i genitori sapranno se il primo intervento sarà sufficiente o ne servirà un altro per far ripartire l'impianto. Ci auguriamo, concludono i genitori, che tutto vada per il meglio e che lunedì 4 dicembre la scuola possa accogliere i ragazzi in un clima più accogliente. Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione del piccolo ponte pedonale che permette l'attraversamento del paese di Rigutino senza dover passare dalla regionale 71. Nelle scorse settimane i residenti si erano mobilitati per cercare di avere una soluzione, a chiedere la demolizione e il genio civile per rischi idrogeologici. Una vicenda che oggi è arrivata anche in consiglio comunale con due interrogazioni da parte di Marco Donati di Scelguarezzo e Andrea Gallorini del PD. L'assessore Casio ha così dichiarato che la soluzione sarà quella di realizzarne uno nuovo il prima possibile e di aver già incontrato la proprietà disponibile a portare avanti un percorso per rifare una passerella pedonale. Si tratterà dunque di un intervento su suolo privato per uso pubblico. E sempre il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di delibera illustrata dalla sindaco Alessandro Ghinelli che disciplina la sperimentazione delle armi ed impulsi elettrici, i taser, in dotazione alla Polizia Municipale. Una formazione adeguata adesso fornirà un livello di preparazione finalizzato all'utilizzo dello strumento in sicurezza. Il regolamento prevede anche un periodo di sei mesi di sperimentazione che impegnerà due unità munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al termine del quale spetterà il sindaco valutare se adottare il taser in via definitiva. E restiamo ancora in Consiglio Comunale dove è stata approvata, su proposta dell'assessore Merelli, la compravendita e la permuta di immobili nella zona dell'ex foro Boario, individuata dall'amministrazione comunale nell'ambito di un programma di riqualificazione delle strade, delle piazze e del tessuto urbano come meritevole di un intervento suddiviso in tre lotti. Approvata anche, su proposta del vice sindaco Lucia Tanti, la convenzione che disciplina l'esercizio integrato di alcune funzioni sociosanitarie tra aziende Asla Toscana a sud-est e comuni della zona aretina. E sempre in tema sanità, nei prossimi giorni si gioca la partita sui possibili tagli in Toscana. Vediamo il servizio. La sicurezza oggi è uno dei problemi fondamentali nella vita delle nostre comunità e noi vorremmo dare fino in fondo il nostro contributo. La solidarietà ai carabinieri che hanno vissuto stanotte questo momento così drammatico e la solidarietà a tutti gli uomini in divisa che lo vediamo ogni giorno presiedendo le nostre condizioni di ordine pubblico e sicurezza, ma lo abbiamo visto quanto si sono impegnati anche nell'alluvione che ha caratterizzato soprattutto i luoghi da Firenze a Pistoia, per fortuna senza toccare le due grandi città. Ancora sanità. Gli ospedali dell'Asla Toscana Sud-Est si confermano a misura di donna. Tre bollini rosa sono stati infatti assegnati all'ospedale di Arezzo, tre a quello di Grosseto, due a Notola, due a Poggi Bonzi e due all'ospedale del Valderno, nella cerimonia che si è svolta a Roma questa mattina. I bollini rosa sono il riconoscimento assegnato per gli ospedali impegnati in tutte le regioni italiane nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo. 4.693 invece sono le firme che sono state consegnate da SPI e CGL alla direzione dell'Asla Toscana Sud-Est. Sono in calce alla petizione con la quale si chiede di assicurare maggiori e stabili risorse e al servizio sanitario pubblico in linea con i paesi europei e garantire così ai cittadini le migliori risposte ai bisogni di cura. SPI e CGL chiedono inoltre che sia data la possibilità alle regioni di assumere il personale necessario superando i limiti e i vincoli di spesa imposti dalla legge nazionale. La Commissione europea invece ha approvato la bozza del decreto del Mase sul CERN nel quale sono stabiliti finalmente le tariffe incentivanti e contributi a fondo perduto. Nell'attesa che il decreto venga presentato in Parlamento, il fondatore della Casa dell'Energia, Fabio Mori, ha accolto l'invito di Fabio Roggiolanico, founder di EcoFuturo, per svolgere il convegno Comunità Energetiche Rinnovabili e istruzioni per l'uso presso la Casa dell'Energia in presenza e anche in diretta social sui canali di EcoFuturo. E adesso voltiamo pagina, si apre infatti a domani la Summit del gioiello italiano, la terza edizione di un evento che riunisce tutti i protagonisti della gioielleria e oreficeria Made in Italy. Al centro dell'evento i giovani futuro del comparto da coinvolgere per garantire continuità e crescita ad un settore fiorello e chiello della manifattura italiana. E sta facendo in queste ore invece il giro del web a questo filmato nel quale si vede quello che sembrerebbe un lupo a girarsi in città. E' successo in zona meridiana e il filmato dell'animale è stato ripreso dallo smartphone di due ragazze che si trovavano in auto. Un video ovviamente che è diventato virale sulle piattaforme social. E adesso ci spostiamo a Rondine, cittadella della pace. Sono infatti aperte le iscrizioni per il quarto anno. Io penso che un mio coetaneo e una mia coetanea dovrebbe valutare e poi scegliere l'opportunità del quarto anno a Rondine perché credo sia effettivamente l'esperienza giusta che ti permette di vedere il mondo da un'altra prospettiva, anzi da altre prospettive. C'è tempo fino al 31 dicembre 2024 per candidarsi e poter accedere al quarto anno Rondine, un'opportunità educativa e formativa riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l'innovazione didattica. Quando sono arrivata a Rondine mi sono sempre chiesta quale sarebbe stato effettivamente il cambiamento che Rondine avrebbe portato in me e nella mia vita ma soprattutto nella mia comunità. Sono arrivata con tante certezze che invece nel corso del quarto anno ho decostruito a poco a poco per poi riconsolidarle in maniera più salda e per radicarle meglio dentro di me e questo è forse il cambiamento più grande. Il quarto anno Rondine significa trascorrere un anno di scuola nella Cittadella della Pace, un ambiente capace di mettere in comunicazione paesi e culture diverse grazie all'interazione con la World House di Rondine. Non solo, il quarto anno di Rondine non finisce a giugno, la formazione infatti continua a distanza anche nell'anno successivo. Il quarto anno è entrato e ora vive nel territorio di Vittoria in vari modi sia grazie alla sezione Rondine che è il progetto appunto del quarto anno che viene portato in tutte le scuole d'Italia che ha inizio quest'anno come sperimentazione anche nella mia scuola e attraverso il progetto di ricaduta sociale perché ho realizzato un coro, si chiama il coro Noi Posso che riunisce bambini e bambine che vengono da situazioni familiari, sociali, economiche molto diverse tra di loro con l'obiettivo di creare dei momenti di socializzazione, di scambio dove non solo si canta insieme ma prima si scoprono temi della legalità, della sostenibilità, del rispetto reciproco. Parliamo ancora di giovani, Zero Spreco Edu, Coldiretti e Associazione Cuochi di Arezzo hanno lanciato un corso di formazione con una tirocinio per diventare cuochi ed assistenti cuochi professionali per dare così una chance in più ai giovani che decidono di lasciare la scuola oppure sono alla ricerca di un lavoro e nuove opportunità. Il corso per 15 posti a cui si potrà accedere attraverso un bando pubblico che verrà pubblicato nelle prossime settimane si svolgerà da fine gennaio a maggio 2024. E oltre alle lezioni teoriche e pratiche prevederà un tirocinio presso una delle attività di ristorazione a retina. La regione toscana invece ha deciso di celebrare nelle scuole la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS e lo farà anche ad Arezzo all'ITIS Galileo Galilei. Una mattinata di interventi con esperti e come filo rosso l'importanza della prevenzione, informazioni chiare dunque sulla trasmissione della malattia e le cure ma anche educazione affettiva e alla sessualità consapevole e la necessità di abbattere lo stigma sociale che ancora sopravvive e ghettizza chi è malato. Cambiamo argomento. Anche quest'anno torna il Natale solidale di Oxfam Italia con l'iniziativa in carta il presente regala il futuro. Dal primo al 24 dicembre sarà possibile in 10 stor ad Arezzo e provincia sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi crisi umanitarie del mondo ed offrire un aiuto ai ragazzi che in Italia rischiano di restare indietro e abbandonare gli studi con moltissime famiglie impoverite dal caro vita. Un aiuto poi anche alle popolazioni estremate da povertà, cambiamenti climatici e conflitti. E adesso ci spostiamo in Valdichiana. Romana Severini, figlia dell'artista Gino Severini, cittadina onoraria di Cortona. Cortona festeggia una nuova cittadina onoraria. Romana, figlia del grande artista Gino Severini, è stata insegnita dal comune della pergamena ufficiale. Spero che ci saranno altre grandi occasioni per venire a Cortona, ma per me è stata anche una sorpresa di avere questa stima da parte della cittadinanza, di tutti gli amici antichi e nuovi. A lei il merito anche di moltissime donazioni delle opere e degli oggetti appartenuti al padre, che hanno permesso di allargare le sale del Maeg. Resta memoria indelebile della vostra riconoscenza, gentile, cortese e sempre fulgida dei migliori propositi. Cortona, 25 novembre 2023. Romana deve essere necessariamente ringraziata, primo perché ha accettato di venire alla cerimonia della cittadinanza onoraria, facendo anche uno sforzo. Ma tuttavia la ringraziamo per aver lasciato opere fondamentali al Museo Maiche. Oggi le sale del Museo Maiche sono una ricchezza dello stesso museo e non ci dimentichiamo che abbiamo avuto l'onore due anni fa di partecipare anche all'apertura del meeting di Rimini e che quindi anche lì Severini ha avuto un risalto internazionale. Un ricordo commosso quello del padre Gino, che amava la sua città natale e che considerava la sua terza patria. Persona di una grande bontà e onestà, che diceva lui stesso, c'è il carattere un po' dei cortonesi, che ogni tanto si arrabbiano, però molto legato naturalmente al lavoro. Il lavoro e il lavoro, questo lo consigliava anche agli altri, ai giovani, cioè non vi fate cogliere di sorpresa, perché l'ispirazione viene solo davanti al cavalletto, non viene guardando il soffitto. Dunque un gran lavoratore e un grande amore per la famiglia. Venivo spesso, c'era anche a casa di mia sorella, in campagna, dunque c'era mia madre, che ha vissuto con me per tanto tempo dopo la rimasta vedova. Per lei Cortona è la sua terza patria, come per mio padre. La cittadinanza è stata conferita nell'ambito della quindicesima edizione della mostra internazionale Arti Visivi e Poesia, omaggio a Gino Severini, premio Città di Cortona, voluta e organizzata dal Circolo Culturale Gino Severini, presieduto da Lilli Magi, che da anni lavora per promuovere l'arte nel nome del grande artista. Volevamo tirare fuori dal silenzio Gino Severini, perché nonostante fosse un cortonese, qui a Cortona di Gino Severini se ne parlava molto poco. Il Circolo è cresciuto, che ha credibilità anche nel mondo degli artisti, perché noi abbiamo tra i nostri partecipanti anche alcuni provenienti dal Museo della Permanente di Milano. Quindi vuol dire che siamo apprezzati anche chi l'arte la fa da più di un secolo. Quest'anno abbiamo introdotto anche la poesia, perché volevamo rendere omaggio a Paul Ford, che è il nonno della romana Severini, il babbo quindi della Jane, moglie di Gino Severini, che è stato un grandissimo poeta. e in più abbiamo fatto delle gigantografie, una in particolare dove c'è anche la Jane, perché io sono convinta che dietro un grande uomo c'è una grande donna. Per il Circolo Severini questa cittadinanza ha un sapore ancora più dolce. La romana Severini è il nostro faro, quello che ci ispira. Io la romana la conosco da una quarantina d'anni, è una donna simpaticissima, piacevole. Poi è un pozzo di notizie, perché basta parlare con lei che così spontaneamente tira fuori aneddoti del babbo e della vita, del babbo e della famiglia così simpaticissimi. Inoltre lei è la presidente onoraria del Circolo, quindi per noi è un vanto maggiore. In questi anni il Consiglio regionale è stato molto vicino a Cortona, l'ho dimostrato sicuramente con la mostra su Luca Signorelli, ma l'ho dimostrato continuamente anche con queste vicinanze alle edizioni dei premi su Gino Severini, che sono state indette appunto dall'Illimash. Quindi l'impegno continuo è un impegno fattivo, al di là delle parole di circostanza, cerchiamo di essere vicini ai territori in modo utile e concreto. Un corso per assistenti bagnanti al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. La Chimera Nuoto infatti ha rinnovato il proprio impegno nella formazione dei professionisti dedicati al salvataggio e alla sicurezza in acqua, con un percorso che dalla prova di emissione di mercoledì 6 dicembre terminerà con l'esame conclusivo di mercoledì 6 marzo. Questo corso, rivolto a studenti e nuotatori con più di 16 anni di età, prevede un programma complesso tra lezioni pratiche e teoriche tirocini a bordovasca, finalizzato all'acquisizione di un brevetto che costituisce titolo professionale di merito e che potrà dunque aprire nuove opportunità lavorative. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.